è il momento di insegnarvi a tutti voi virgin dotati come si prende una donna o come si entra nella testa delle donne perché se il livello di oggi sarà un livello molto difficile dovremo interpretare una donna in discoteca alla ricerca della storia di una notte una botta e via una sveltina niente di che va bene questa sera domani ognuno per la sua strada luis è pronta a passare la serata fuori e vuole spassarsi aiutala a trovare l'uomo giusto ed andare a casa con lui per divertirsi senza impegno come piace a noi ragazzi time to shine bellissimi sottotitoli frate c'è un bug con i sottotitoli come comportarsi fatti vedere arrabbiata come se stessi facendola difficile assolutamente no avvicinati a un ragazzo a fargli il cazzo per fargli capire chi comanda se noi rispondiamo la b è diretto si va a scopare chiede a voci alta allora c'è qualche vero uomo qui sorridi molto e guardano intorno ovviamente smettetela di driftare appena abbiamo iniziato perché vi ammazzo ovviamente non ne fa sorridere molto si guarda intorno e cerca lo sguardo dell'uomo driftatori di merda vi prometto che lo rifacciamo driftandole ok vabbè chi le vuole scopare a ste due sta zitto verso un meliè della figa fai due così non dici ce faccio un trisom a pezzente sta a fare il sommelier della fregna e guarda che c'hai qua davanti non ci prova nemmeno sola ora tu mi stai e vedi due che ti guardano così sorridendo e muovendosi e tu mi e tu dici chi se le vuole scopare se sta già secando il ragazzo le donne che vogliono essere approcciate o caricate e saranno meno interessate loro amici giusto allora allora vi ho detto che dopo se volete lo rifacciamo driftando le risposte ora cerchiamo di giocarla entrando nella testa di una donna in modo che voi brutti bonobbi un giorno che andate in un locale capiate il linguaggio del corpo del viso della donna e ve possiate farla scopata ok scimmie vi sto cercando di far capire come cazzo se scopa e voi state a driftà porco due andate va a vedere basic instinct cazzo io non ci sto credendo ho un allevamento di bobonchi in questo momento il cazzo è un bobonco poi che lo dico sempre magari sto dicendo qualcosa di offensivo e mi bannano ehi siri cercami bobonco su google ecco cosa ho trovato cercando bongo swing ma non bongo mi è uscita la foto di una tizia di instagram tra l'altro ho scoperto che questa tizia si chiama bobonco e fa la suicide girl e io sapevo niente quindi è la b le donne che vogliono essere approcciate si guarderanno in giro ogni volta che qualcuno entra nel locale e saranno meno interessate loro amici più a quello che accade nel locale e ora si drifta se si 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 te lo do tutto l'ucce ma come balla il team no ma si è dato ma come si è dato per ricevere ancora più tensioni canta squarciagolo urla al fuoco al fuoco per eliminare la competizione in pista twerca contro un'amica ragazzi lo sappiamo tutti che qui vogliamo il twerking e qua mi scateno boys e qua esce il puro fuego altro che questa ti faccio vedere io come se twerca zì dai ti faccio vedere io come se twerca zì dai ma che è sta merda ti faccio vedere io così se twerca ma che cazzo è sta roba ma che è sta roba ma che è sta roba ma twerco meglio io no 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 ma twerco meglio io ma che è sta roba elettra l'hamborghini insegno io come se twerca raga ascoltate bon hobby ascoltate ascoltate ma che è non sto capisso certo per me una brava ragazza assolutamente no 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 e lo scriviamo falso acd cerca compagno di ballo invisibile di adam lions cerco ad amlio scompagno di ballo invisibile su itunes store che cazzo dice itunes store non ha trovato assolutamente niente ragazzi quindi respingelo sgarbatamente can I have your number oh so boring throw some bollocks look at you look what you're dressed in do you really really think you can walk over here looking like that and that's my number I can have some bollocks hang on Israeli have you been in the fucking army throw a bear fuck off un po' estrema questa cosa no no tutta una bomba assolutamente una bomba come Mahmood ok allora era questa can I give you a test sure yeah it's just a test of your coordination yeah why not okay phone in your pocket this okay comes like this and you're going to pop me okay you go one two three four really fast up to ten okay try it one two three okay okay now you do it with your eyes closed keep them closed up to ten okay 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 go one two three four five six seven eight nine ten ma che cazzo ma è da stronze erano meglio le urla è da figli di puttana quell'altro ma arriva e gli dà una bottigliata sulla testa ti giuro ok campioni questa marcia walking talking fucking disco ball donny come talk to daddy what might your name be let's go i'm louise louise nice to meet you what's your name it's fraser the second nice to meet you questo è marza una bomba ok va bene no non è nano non sta sulla pista da ballo marza conte di bari cioè questa l'israeliano no invece il marza conte di bari che c'ha 10 grammi di cocaina dei fagiani che è andato a caccia questa mattina e un roly poly che non so cosa sia ragazzi scusatemi ma non so cosa sia e lui si scusatemi allora lui c'è sta lui è una bomba c'è la cocaina che gli ha fatto perdere i capelli un po' come marza quindi io direi di iniziare a toccarlo in modo sensuale anche una pista d'elicotteri c'è la c'è la c'è come le le e ma se lavorava la coppa non se lo sarebbe neanche filato scusatemi devo sentire il messaggio del marzone no è brutto quindi ragazzi andiamo sul no a me divertente sto tizio mi sembrano sfascione con un tasso alcolemico proprio a livelli stratosferici cioè questo qui c'ha più alcol che acqua in corpo in questo momento io riproporrei di nuovo a Liak, Paolo e Tata Serugo di dirci se sì o no in questo caso questo sta più del là che del qua cioè questo sta stirando è come Marza stasera quindi niente pisciato lui va andiamo per il no è troppo sbronzo ok no ma un bambino ma questo è patacchini che cazzo di violentatrici cioè qua stanno vogliono violentarmi i patacchini qua è assolutamente no qua è assolutamente no ragazzi mi vogliono violentare i patacchini i patacchini mi devono restare vergine casto e puro fino al matrimonio perché se riusciamo lo sacrifichiamo a Satana e quindi ci serve che sia così c'è solo delle pedofile queste ragazzi che sì c'è i miei maledetti esattamente esattamente si patacchini non scopi questa face rianta lesbica sì perché Richard è il sogno erotico di ogni donna e ora ditemi donne della chat se voi non vi vorreste portare a letto e avere un'avventura con il leggendario Richard ormai più donne avete questa occasione l'avventura di una notte con il vostro sogno erotico Liak si dissocia sappiamo che ce l'ha il poster se si dissocia non ha detto di no non ha negato ragazzi non ha negato Sofia ha detto di sì pure Sofia quindi ragazzi ormai la dobbiamo driftare la dobbiamo driftare Paola, Valkyria siete qua una bomba quindi se scopa stasera so tonight I'm fucking you I'm gonna go I think I've got this ok have fun Uber time divertiti all'ora di Uber l'ha cacciata così ciao nezia e mo vediamo cosa fa la panterona ti è a vista il culo e ora si vola Richard fa il primo passo imparate uomini che lo dovete fare voi il primo passo scimmie lo dovete fare voi il primo passo così si con la cintura di Hermes flexing boy marza ma come ridi e di forza povero marza però capite ne dobbiamo parlare di questo dobbiamo parlare dobbiamo parlarne bacio all'italiana questa è una cazzo di cosa che dovete imparare le donne vogliono l'uomo che prende le decisioni cosa mangiamo dove andiamo che facciamo le donne non vogliono prendere decisioni se vedete che una donna vi guarda vi nota quello che dovete fare dovete voi andare da lei voi parlare voi fare il primo passo voi farla parlare voi fargli notare le cose come ha fatto il buon Richard voi dovete sfidarla voi dovete fare capire che voi siete il maschio alfa e volete una cosa sola e non parlo della mossa del sole di tensing ma volete una sola cosa e come fate a far capire quella cosa scimmie dovete andare lì e prendervela voi dovete farlo non pensate che le donne facciano tutte da sole non esiste questa cosa ragazzi non ci pensate proprio ok non esiste questa cosa che c'è l'emancipazione roba varia nella seduzione l'uomo ha l'impegno principale ok l'uomo deve andare lì e prenderla e conquistarla anche se lei vi ha notato e vi sta fissando vi sta guardando vi sta chiamando in quel momento ragazzi è lì che dovete giocarvi le vostre carte l'asso nella manica è lì che dovete sfoggiare il vostro charm che dovete farvi dire che siete come si può dire che siete estroversi ok capito ed è ovvio che questa è la risposta se mi fanno una domanda del genere panico umile ok ok ci può stare gentile presa ragazzi genio sei un cazzo di genio Richard mi ha conquistato pure a me è un genio ha vinto tutto 200 IQ 200 IQ ragazzi quando gli ha detto che è un tipo deciso in quel momento lei si è eccitata si è vista una scintilla anche se stavano recitando io sono sicuro al mille per mille che Richard dopo questa puntata se l'è chiavata di un male ma proprio un male incredibile secondo me se faccio l'imitazione di Catwoman è un troll quindi chiedile di comprare una bottiglia di champagne per te perché l'alcol rende tutto più magico e toglie le inibizioni ricordatevi questo e la moglie è testata, quindi potrebbe farlo, potrebbe farlo, potrebbe farlo, potrebbe farlo, potrebbe essere sessuale, potrebbe essere sessuale, e il punto di tutto questo è vedere se può farlo, perché ovviamente se non puoi farlo, non è stato un uomo per lei in questa situazione. Richard, non so se che la mia pre-conflexione è, ma non mi sembra normalmente così. Sì, cosa sembra? Beh, questo è il mio cazzo di giocchini da manipolatrici bastarde, siete delle stronze, fatevelo dire, questa è una mossa da stronze, sono rimasto scioccato, non ci avevo mai pensato a questa cosa, grazie mille Richard per avermi insegnato qualcosa, anche questa sera, e grazie per averla insegnato specialmente ai miei ragazzi che hanno bisogno di queste cose. Qui siamo in una situazione difficile, ok? Perché noi non sappiamo Richard come risponderà, prendendolo in giro potremo metterlo in difficoltà e farlo arrabbiare, e lui potrebbe pensare che lo stiamo prendendo in giro, effettivamente, ok? Quindi la A, qui stiamo andando per la A ragazzi, le ragazze stanno votando la A qui, la mia tipa dice A, dice Pixel, va bene. Bravo, mano sul fianco Richard, bravissimo, contatto fisico Richard, una bomba. Una bomba. Bravi ragazze, bravi ragazze, grazie mille. Donne, è il momento di fare le laide qui, ditemi che non ho ragione. Sto cercando di calarmi nella parte. Ragazzi, davvero la A devo andare? Vagino munite, dobbiamo andare sulla A. Allora, due ragazze hanno detto la A, una ragazza ha detto C per ora. Io pensavo che dobbiamo andare in momento puttanella ora. No? Ok, va bene ragazze. Ragazze, se abbiamo sbagliato, vuol dire che non dovete dire queste cose, ok? L'IAC ti devi far desiderare. Oh mio Dio, ora questo non ci avevo pensato, perché potremmo pure farci desiderare. Eh no, qui la situazione è una merda qua, eh. Se fare la A, la B o la C? Quindi la C la busciamo. E la B? Vai. È presto. Oh, grande! Devo bene. Ok, qui, questo è un po' tuttissimo problema. Richard spaccia. Che cosa cazzo ho appena visto? La situazione è una merda. Ah, ce la procura pure a noi. Cazzo. C, devo bere. Scopre che un tipo spaccia di fianco a lei. Ok, va bene. Con la faccia di sorridere, tipo, ok, va bene. Ah, cosa sono questi pregiudizi? Magari era un'altra cosa. Anche se tu ti droghi, non è che è il massimo frequentare lo spaccino che sembra Gesù Cristo. Sembra lo spaccino di Pulp Fiction. Ragazzi, la situazione è critica. Vedo che le donne vanno per la B. Donne, avete votato la B. State facendo le bacchettone. Ok? Non, è un'farmaceutica. Non, è un'farmaceutica. Non è un'farmaceutica, non è un'farmaceutica. Non è un'farmaceutica. Non è un'farmaceutica. Ha un'antihistamine, se si chiunque vuoi. Ha un'hafai vera. Cazzo, avete hai fieverti? Sì? Ok, in questo film, ha chiesto di essere lei. E potrà aver capito, perché ho abbiamo fatto i la drog, allo? ragazze vedete che fate male a comportarvi da bacchettone cioè è un lavoro come un altro non è molto hai dolcezza hai larinite allergica ok vediamo 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 sì certo assolutamente si chiama così la coca ora è una bomba è la right option eccellente